...di gioia incontrarvi per me, perché conosco molto bene il vostro impegno nella trasmissione della fede. Come ha detto il signor Fisichella, che ringrazio per questo appuntamento, venite da tanti paesi diversi e siete il segno della responsabilità della Chiesa, nei confronti di tante persone, bambini, giovani, adulti, che chiedono di compiere un cammino di fede. Dice il catechista, vi ho salutato tutti come catechisti, lo fate intenzionalmente, vedo in mezzo a voi parecchi vescovi, tanti sacerdoti e persone consacrate, anche loro sono catechisti. Anzi, direi, sono prima e tutto catechisti, perché il Signore ci chiama tutti a far risuonare il suo Vangelo nel cuore di ogni persona. Vi consesso che a me piace molto l'appuntamento del mercoledì, quando ogni settimana incontro tante persone che vengono per partecipare a... 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 a trovare le forme necessarie per testimoniare il Vangelo nella vita quotidiana. Vi prego, non stancatevi mai di essere catechisti. Grazie. Grazie.